Sì, è un salto che viene, è un salto che viene, è un salto che viene, è un salto che viene. Allora, aglio grattugiato, beve fianco e sallosa. Ok. Ciao, ciao. Noi prepariamo uno per ogni piatto. Secondo me io lo condirei nel piatto. Eh, ma non abbiamo abbastanza per fare venti, primi, secondi, terzi. Ammucchiata di finocchi sull'arancia. E sale rosa dell'Himalaya, no? Dal mare al monte. Mare e monte. Ecco qua. Mare eренzo dell'aria. E' stato vago, stai cucendo. Pazio. No, no, ma ciò non si siede dentro le vallette. Dentro le vallette a tanto di dentro. Ho preso qua una cucinale... Anchino? Si. se potò appena tram posto prendere anche un posto e quindi io sono rimasto qua